bene benvenuti su questa serie live strange nuova 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 quindi se vi piace commentate condividete e iscrivetevi al mio canale si comincia where am i what's happening i'm trapped in a storm how did i get here and where is here wait there's the lighthouse i'll be safe if i can make it there i hope please let me make it there bene cavolacci ma non ho visto un simile gameplay mi sa che farò tante di quelle cazzate qua dentro con questi gameplay ok che cazzo di tempesta aiuto ho solo visto il trailer in effetti aia aia ho sbagliato strada aia calma sono morta no no sono morto no 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 che cavolo ma che ha già a rispondere aspetta vediamo quale conto che a Ah, quindi vi faccio Reda, deve stare l'immortaggio Ahia, vi faccio il selfie, va? Sperate, scusatevi via Ah, scusatevi Eh, non volevo, scusa Ah 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 Quanto la odio Leggiamo 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 Quinti, tanti anni. Il primo degli amici di Deguario tipo di self portruttore è stato fatto da Robert Cornelius. Non mi non mi hanno fatto capire con il mio giornale. Non mi hanno fatto capire tutto il mio libro. In tec book. O, anche... Guardate questo. Come posso confermare questo a Mr. Jefferson? Non mi posso sentire il mio classico che mi ha riuscito a riuscito. Non mi ha detto. 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 Non c'è da questa scuola. Non c'è da questa scuola. Vediamo. 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 Vediamo il computer. Aspetta. Eh? Cosa? Che cazzo? Eh. Aspetta. Eh, guarda. Beh, uso va. Ciao. Vediamo. Che faccio? Ma come? Ma che... Ok. Ma che diamine... Ma che... Ma che... Ma che... Ma che... Ma come si usa questo cazzo di computer? Non lo so. Aspetta. Ah, ci stesse facendo il ritratto? Andiamo. Ma che... Ma che... Ma che... Ma che... Cate cate... Kate sembra così triste e quieta oggi Kate sembra così triste e quieta oggi Ciao Kate Oh, ciao Matt Ciao I also want everybody to know that this photographic world is not for everybody You seem quiet today Just thinking too much I only want to share whatever gifts I have with the world I hear that Wanna go grab a cup of tea and bitch about life Thanks, but not today Ma che cavolo Ma rimortacci Aspetta, vediamo un po' l'altra riflessione Ma che cavolo sta buona Aspetta, a pallina, a pallina Che cavolo è successo? Ah, ecco perché Ma che cavolo è? Ma i mortacci? Ma che cazzo? Ma che cavolo? Ok Facciamo una cosa Guarda Ma che facciamo così Vediamo Guarda That was amazing When Mr. Jefferson took a class picture the first week Even though I didn't want to be in the picture at all It was fairly fucking cool to watch him at work framing us Hmm Vediamo Che altro c'è sta Aspetta Guardiamo Damn, hanno i tripod carbon fiber here Eh sì Aspetta Damn, hanno i tripod carbon fiber here Il ball head even ha una panlock Ah Oh Aspetta Sono così un fotonerd Aspetta Questo che cazzo Vediamo Sono curioso di vedere questi Aspetta Tacquino Aspetta Pichiamo su tacquino Of course Victoria has to have the bestest, newest, most expensive, everything Even her school books are gift wrapped I can't believe she made fun of me in class I should have known Ah, bene Ah Vediamo Hmm Ah In gestione Ma che cazzo Guarda This might make a cool shot Foto va Facciamo una bella foto Qui Ciao bello Ah Ciao bello Grazie per la foto Vediamo un po' Il ricordino ce lo prendiamo dopo Diario Haha Ah Ehm Facciamo un altro ricordino Aspetta Facciamo una foto Eh no Aspettiamo Prima Prima voglio vedere questo Mmm Non so nemmeno cosa è successo Come cazzo sono arrivato qua Arrivato qui Ehm Ma immagino che Ehm Sapeve Ah Che sapeveciare nel tempo Chissà Mi sembra Quella serie televisiva True Killing Quella che ha fatto Fate Con la stessa attrice Che ha fatto Fate Wow Mr. Jefferson Is not Messing around With that monster He probably paid 20 grand For that camera Ma è Ma è Ma è Video Che Ah Ok Prima facciamo una cosa Devo vedere che cazzo c'è sta TV Ah guarda Infamia Ma quindi ci mi Ehm Non C'è la Victoria Vediamo Eh si Sta antipatica Sta botella In ogni caso Troppo ridico Mr. Jefferson Can I talk to you For a moment Yes Excuse you No Victoria Excuse us I'd never let one of Photography's future stars Avoid handing in her picture I didn't have any time Way too much homework Max You're a better photographer Than a liar Now I know it's a drag To hear some old dude Lecture you But life won't wait For you to play catch up You're young The world is yours Blah 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 Right But you do have a gift You have the fever To take images Defend the world Only the way you In vision Now All you need Is the courage To share your gift With others That's what separates The artist Ma se faglia Faracci tuo Il professorino Dei festivali Burtacci tuo State buono Vediamo Ma Aspetta Pio Stata Le camera Sta Balla Telecamera Qui Dai che cazzo Non posso mai copigliarla Aspetta Aspetta Ah Infatti Murtacci Eh Aspetta Troppo Non posso mai escapare la L'uomo di L'uomo di Bene Andiamo Aspetta Questo Non è già stato No Tablet Roba varia C'è qualcosa qua Aspetta Questo Stampano Il printer È Improvato Il printer Vediamo Come si riproduce Le mie 照 Oh Ma perché Decidi di fare schifo Dai Non fai così tanto schifo Anzi Per niente Ora ti dobbiamo realizzare Aspetta, libri, libri, libri Beh, vediamoci va È l'ora di andare, va È l'ora di andare, va Perché posso bagno? Io non lo so No, no, spero che non mi diano questa dannata cosa Ma i mortacci tu Sto dannata copyright Ehm, cavolo, spero che non reclamino Se non riesco a fare una cosa Evan doesn't say much to me But his photos are very cool Alyssa is always texting But she doesn't hang out with a lot of people Ehm, una solitaria Ehm, se facessi qualche foto Aspetta, questo No, la faccio così Prima That's Dana talking to I think his name is Justin Ehm, questa sta spingendo Però che spingendo è questa? Ehm, perché si stia perchè sta umpy Bisogna essere sempre a cattiva Dana è anche sul mio luogo E朋友 E' un tipo di architipi E' un bel diversion Mus огрabili À Ciao Logan, ma è Logan. Sì, prima o poi io l'ho... Aspetta, questo è qui. Ma questo è un po' un cazzo. Vediamo. Chi è questa? Ehm, ok. Poster. Sì, questo poster deve non sempre farlo. Ah! Ehm, aspetta, questo è simpaticone. Penso che questo è Courtney. E' così un slave per Taylor e Victoria. Eh dai, non è stata così schiavetta, dai. C'è Taylor, sempre aspettando per Victoria. Sì, scuola di scienza... Lasciamo perdere questa scuola di scienza, dai. Poster. Missing? Ma che è scomparsa! Mortacci mia! Ma che cazzo, c'aveva 19 anni, mortacci mia! Ma che cazzo? Ma che cazzo? C'aveva 19 anni, mortacci mia! Ehm, facciamo così. Andiamo per esploriamo un po' la scuola, va. Perché non ho visto le sue che play, e lo giuro. Ah, vediamo. Aveva 19 anni. C'è un momento se avete qualsiasi produzione. Arcadia Bay? Che cazzo è sta Arcadia Bay? Mmm... Ehm... 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 In effetti... Ma che cazzo? Per Halloween? Ma se stanno a preparare per Halloween, dai! Non bisogna un PC, mi perdono i laszioni del Poetry Jam di try-o, e non ho fatto lo stesso backpack. Ehm... 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 I wonder what actually happened to her. So what t qui è successa? C'è sta... Non è che dovevo trovare lei. Good thing I left my AK at home. la buona bella chi è questo? ah cosa è questo? ma che ah sfigati si sembra che è venuta per mesi ah bene sono un uomo un uomo un uomo un uomo un uomo un uomo ah aspetta ma prima cosa ah 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 questo chi sarà male ah mi piace la serenità ah ok ah quindi questo che sarà ah ah sapevo che c'era lui qua il scheltro il scheltro il bigfoot stop devo sviluppare qualche spirito vai team ah ah ma prima possiamo guardare un po' di roba il nostro cavolo di armadietto ma questa che sarà ah mi sembra una ragazzina ma questa foto ma questa immagine spiegami di una cooperazione di queste canzoni dai cavoli ora andiamo no ancora dai stai mi dando un copyright sto cazzo ma è sicuro c'è un braccio che mi danno sto cazzo di copyright se vado di qua non mi sa che sono obbligato ad andare all'accesso vabbè se vediamo qua no facevo un po' anche no è no in effetti ops no no non ci credono i graffiti ok now who would bother to write that crap now who would bother to write that crap ah poi che dico ehm cavolo cavolo ok ehm ecco che cosa ma qui saranno ecco 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 eh tanto per ehm ecco 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 Un dono. F***la. Quando la porta chiama, una finestra si apre. Ma che cazzo. Ok, ragazza, non hai una foto come questa ogni giorno. Guarda. Oh, no, 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 dai. E che apodiché? Ah, cazzo. Ah, cazzo. 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 Cazzo, sto cazzo. Dai, 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 dai. Cazzo, sto cazzo. Cazzo, sto cazzo. Cazzo, cazzo. Mortacci due, mortacci due, mortacci due. Vabbè, io cazzo la già fa. Fuori. Si. Wow. Cazzo, ancora. Cazzo. Vabbè, ok. Si, si, si. Ah, bene. La mia macchia fotografica è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Bene, bene, bene. Bene, vediamo. Ma che cazzo? Ok. Ok. Ah, questo? Che cacchio è questo? Prescott? Ma che cazzo? Prescott? No. Ma non è che è stato bocciato questo? 19 anni a correre al liceo? Ma dai. Ah, a campus. Stiamo al campus? Università, in effetti. Ah, quindi al liceo. Ancora abbiamo capito se è al campus o no, lo dicevo. Cavolo. E questa è pazza. Qua non l'ho notato questo. Dai. Ma che... Ma questo è... Dai. E la tutta è vacilata, perché non dovrebbe vederli? Non dovrebbe vederli. Mmm... Un bel sorriso? Devo fare una nota fotocamera Quindi tutto sembra lo stesso, è ancora lo stesso stupido Quindi tutto sembra lo stesso come prima Non è troppo facile? Che cosa si Arvis si chiede di capirare le persone con la dimensione? Wowzer, mia vecchia rompita camera è ancora nuova Lei ha un bel occhio? Lei potrebbe prendere una nota fotocamera Devo spostare, non sono un grande fan di lavoro Credo che Max ha preso quello che ti ragazzi chiamano un selfie Un dolore per una fantastica tradizione fotografica E Max ha un dono I know I'm not dreaming this It's real I can tell So I can go back in time Selfie expression What if that girl isn't dead yet? Can I save her? Portraiture ha sempre stato un aspetto vitali di arte e fotografia Prima di... Potrei andare al bambino e guardare Now Max Since you've captured our interest And clearly want to join the conversation Can you please Tell us the name of the process That gave birth to the first self portrait Ah No mi senti bene, scusa I'm sorry, I feel sick May I be excused? Nice try Max But we're not going to get away from that We can talk more after class Is there anybody who knows their skills? Jefferson wants to keep me after class And I need time to save that girl A process that gives portrait A sharp reflective style Like a mirror Now you're totally stuck in the retro zone Sad face For a recuperator What if I remind her And give him the right answer To find details of the faces Making them extremely popular From the 1800 zone Ok, ok Let's do something 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 He has to be a police buddy No he has to be a police He has to be Pensate He has to be a police You Formula He has to be an active Ok, no he did anything I got to be a police Since we've captured our interest And clearly wanted to join the conversation Can you please Tell us the name of the process That gave birth to the first self portrait Oh C'è un progetto che è stato inventato da un peccato francesco chiamato Louis Daguerre nel 1830. C'è qualcuno che ha fatto leggere anche come posizare. Buon lavoro, Max. Il progetto è stato molto utile. Sì, perché ha dato un progetto chiaro e definito. Buon Buon E ragazzi non ricordate il termine di fare una foto in il contesto di Heros Io avrei avuto con il vinto a San Francisco dove sarai freddo di un mondo art Ha un grande exposito e può iniziare un'attività in fotografia Quindi Stella e Alissa, prendiamo la stessa Taylor, non ho Come stai a giocare Se questo è real Tutti i fantasie Ok, vediamo un po' Kate Aspetta, orca sta bello Ma perché hai già aspettato? Ah, dov'ho usato, non credo puoi parlare dopo se vuoi, vedo come mi sento, grazie Max bene, ok, vediamo, vediamo, c'è una tuta, vabbè smartphone, no, un culo ok, wowzer, lo stai spingendo, salvi quella chica morta, ci stiamo andando, andiamo a dire davanti al cesso, stiamo sul cazzo andiamo al cesso andiamo al cesso non ne pensi mai a che si trovi qui bimbi sul parlare dell'intervo ma sia molto bene, noi io non lo vi mai puoi dare con una delle star di fotografia evitare scrivere le foto e ah, sì, non si conti che ho un Ehm, potete dare l'accesso prima? Eh, beh, ora vaffaicula. Ok. Facciamo una cosa. Le ho già seguito il tempo, mortacemia, state buoni, buoni, buoni. Ehm, vabbè, facciamo una cosa. Aspetta. Ok. Parliamo questo? Guarda. Ehm, vabbè, parliamo, va. Ehm. Ciao, ciao. Ah, ma se vogliare, dai, brutaccio, sta buona. Tv? Stop this bullshit and go save that girl. Sì, sì, beh. Vai che cacchio. I hope I haven't had time to get to the bathroom. Eh, andiamo al cesso, va. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Ok, andiamo, vado, vado, vado al cesso. Dove cazzo è il cesso? Ah, sì, eccolo qua. L'abbiamo trovato, sto cazzo è il cesso. Vediamo, entro, va. Ok, Max, retrace ogni passo. Mmm. Ho scatato il mio freddo. Ho scatato le mie foto. E poi la... La butterfly flui in. E ho fatto una foto. Mmm. Ma che... Beh, vai. Dai 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 Mordacci! Sta buono, 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 buono. Se posso riferirci il tempo di nuovo, posso aiutare. Non mi chiedi mai cosa fare! Sono così fatta di persone che cercano di controllare me! No, Jay! Non mi chiedi mai ancora, frecchio! Un'altra giornata! Non è successo! Questo non può essere vero! Vi ho visto una ragazza fuori e poi la salvato! Cosa sta succedendo? Non si frecchia! Ma l'allarme ha d'incendio, io sbaglio! Ehi! Hai sentito il fuori? Questo significa che dovresti essere fuori! Ho dovuto usare il bambino! Le ragazze sempre usano l'escusa! L'escusa per cosa? Per quello che stai a fare! Il tuo viso è coperto da scuola! L'allarme mi fuori! Allora fuori fuori da qui, missy! O sei scendendo qualcosa? Eh? Ma vaffanculo questo cazzo di security! La situazione è sotto controllo! Non c'è un'emergenza qui! Leave Miss Caulfield alone! And please turn off that alarm since that's your job! Ma vaffanculo questo caglione! Ehm, bella già ringraziata, mi sa! Tu sembri un po' stressata. Sei ok? Sono... Sono... Un po' preoccupata del mio futuro. Sto spaventando pinballi. È tutto ciò che stai pensando? Tu puoi sempre essere in fronte con me, Max. O hai fatto qualcosa di male? Oh... È tutto ciò? No... No no... No no... No no... Eh... Ecco ho visto a Nathan Prescott spaventando una scuola... Nella scuola. Nathan Prescott? Sei sicuro? Sì. Si è sicuro. 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 Quindi ora hai visto questo. Senza lui a vedere te. Stavo scuola dietro. Ho il diritto di essere qui. È la sala di ragione. Lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Che me ne importa da quale cazzo di famiglia proviene questo. Battete la cazzo di cella di Gabby e gli so la metto. Dai. Quindi cosa succede dopo? Poi... Poi... Poi si è fuori. Mi fu fuori qui chiedendo cosa fare. Tu lo so. Sì. Serious charge. Lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Dopo quello che ti ho detto. Continuiamo questa discussione. Lato. In mio office. Poi andate fuori. Oltre. Oltre. Qui mi puzza di bruciato. Ovviamente questo drone académico non lo so. Il Principale Wells sembra sempre così distratto. Non posso mai sapere cosa pensi. Mi ha fai? Perché? Aspetta. Come se... Ok. Quindi... Aia. Non vantaggi qui. Andiamo a fuori. Ehm. Cavolo. Ok. Vabbè. Pazienza. O lavarlo a spacca. Aspetta. Ma... Mi sa che... E' temporaneo questo. E se faccio così... Aspetta aspetta aspetta. Sta buono 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 buono. Perchè! No 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 cazzo. Sta buono. Parla. Sì sì. Ma... 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 E pensi che è la prima volta che un student ha usato questa linea a me? È la vera. Mi senti fissuto in la classe di Mr. Jefferson. Justi mi dimenticare cosa stai scendendo. Tu puoi confondere a me. Non c'è nulla a scendere. Mi sono scendere. Ci succede, sai? C'è quella squadra 2 di nuovo. Sì, io ho sentito. Non credo che non so cosa succederà qui. Tu solo è stato qui per tre settimane e tu già causi conflitto. Non credo che i vostri amici dovranno approfondire quando si trovi. Ora, si vedi a fuori con la classe. Por favor. Non, non comprava questo. Potremmo un po' l'ho scendere. Sì, potrei riuscire a raccontare e raccontare gli le le cose. Non, non, non. Non, non, non. Non ti farò qualcosa di interessante. Scusami, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Scusate, 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 scusate. scusate questa è buona 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 ma questo è un minaccioso o cheorem vabbè 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 rurrucavolo va bui qualifiché io vabbè vabbè riuscita a far gubacchino pinballi no sono se che ti pensi uno ma sempre tuosti con me trattorni o che hai fatto una cosa riposata Sì ok Ok saltiamo va Sì sono sicura ciao Ok Ah è già abbiamo parlato di questa che ho detto sto cazzo Ok pazienza Ok andiamo un po' nell'ufficio Ah niente Vabbè e con questo abbiamo finito Spero che il video La clip L'episodio vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo Commentate condividete e iscrivetevi al mio canale Per rimanere aggiornati su questa serie Se la volete condividetela E iscrivetevi Oltre Ehm Beh Ciao